Nemi è un comune laziale della città metropolitana di Roma capitale, i cui abitanti sono detti Nemorenzi o Nemesi. Posizionato quasi al centro dei Colli Albani, a 521 metri sul livello del mare, Nemi è il secondo comune più piccolo dell'area dei Castelli Romani, dopo Colonna, noto per la coltivazione delle fragole e per la relativa sagra che si svolge ogni anno la prima domenica di giugno. Secondo la leggenda, le fragoline di Bosco Nemesi nacquero dalle lacrime versate da Venere per la morte di Adone, poi trasformate in cuori rossi. Pare che queste fragole avessero dei poteri, come quello di allontanare i serpenti presenti nei boschi. Quelle di Nemi sono fragole dal colore vivace e dal sapore intenso e vengono utilizzate per diversi tipi di prodotti locali tipici, come dolci, tortine, confetture, il liquore fragolino e persino la birra. Vengono raccolte tra maggio e ottobre e proprio all'inizio di questo periodo viene svolta la sagra delle fragole. Il centro storico di Nemi è situato in una posizione panoramica sul lago omonimo, celebre per essere stato il luogo del ritrovamento tra il 1927 e il 1932 di due navi celebrative romane dell'età dell'impedatore Caligola, conservate nel museo delle navi romane fino alla loro distruzione nel 1944. Nemi appartiene all'associazione dei borghi più belli d'Italia ed è stata freggiata anche nella bandiera arancione dal Touring Club italiano per l'ottima qualità dell'accoglienza e del soggiorno del turista. Il comune è interamente incluso nel perimetro del parco regionale dei castelli romani. Nemi, dal fascino misterioso, nasce da un bosco, come si evince anche dal suo nome, che in latino era Nemus, cioè bosco appunto, e infatti in epoca precristiana la sua divinità era Diana, la dea della caccia e del bosco, ma anche in seguito alla cristianizzazione continuò a essere così. Un borgo a strapiombo sul lago, circondato dal lago più antico di Roma stessa, Nemi comunica questo senso di eternità. Lo si capisce attraversando i suoi vicoli, affacciandosi dalle sue terrazze e visitando i suoi luoghi ricchi di storia. Dalle opere più antiche, come il santuario di Diana, a quelle più moderne, come il museo delle navi romane e la fontana della medusa, Nemi trasmette un senso di comunione tra storia, presente e futuro, come pochi altri posti al mondo sanno fare. Il toponimo di Nemi è legato al sostantivo della lingua latina nemus, che significava bosco. Con questa semplice denominazione, spesso accompagnata da aggettivi o complementi di specificazioni, quali Nemus Diane, Nemus Aricinum, Nemus Artemisum e Cinsefanum, era infatti conosciuto il Tempio di Diana, che sorgeva sulle sponde del lago di Nemi. Il territorio nemese apparteneva in età antica alla città latina di Aricia e la tradizione antica faceva risalire la sua fondazione al figlio del mitico fondatore di Atene, Teseo, Ippolito detto Virbio, o al comandante Esiculo Archiloco. Nel territorio di questa città si trovava il Tempio di Diana Aricina o Nemorense, consacrato alla Dea Diana, come ho già detto, divinità tutelare principalmente dei boschi, della caccia e della fertilità. L'ubicazione di questo importante santuario è stata comunemente identificata fin dal 600 presso le sponde settentrionali del lago di Nemi. Il Tempio Nemorense divenne il centro religioso della Lega Latina dopo la distruzione di Alba Longa alla metà del 600 a.C. e fu frequentato fino all'inizio del 500 a.C., con un periodo di grande ampliamento tra il 200 e il 100 a.C. In età romana il Tempio di Diana continuò a essere ampiamente frequentato anche come sanatorio miracoloso, anche se non nacquero insediamenti abitati di particolare rilievo nell'attuale territorio Nemorense. La memoria di età romana più notevole per Nemi consiste nelle due famose navi celebrative, lunghe rispettivamente 60 e 71 metri. Si è congetturato il loro uso festaiolo e orgiastico, ma l'ipotesi più probabile è che si trattasse di navi sacre, a Diana o a Iside. Anche sul committente si sono elaborate molte ipotesi, restringendo il cerchio agli imperatori Tiberio o Caligola. Tentativi di recuperare le due navi furono eseguiti a più riprese, a partire dal 400, e a un certo punto si arrivò a ipotizzare l'esistenza di ben tre navi. Solo tra il 1929 e il 1932 venne messa in piedi un'imponente spedizione archeologica, che grazie allo svuotamento delle acque del lago, per ben 22 metri di profondità, riuscì a tirare a riva le due navi, custodendole poi nell'apposito museo delle navi romane. Tuttavia, durante la Seconda Guerra Mondiale, nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno 1944, il museo e le due navi andarono a fuoco, pare per un incendio appiccato da alcuni soldati tedeschi in ritirata. Quindi oggi nel museo sono custoditi solo dei modellini in scala. Nel Liber Pontificalis risulta una massa Nemus, donata dall'imperatore Costantino I tra il 306 e il 337 d.C., alla cattedrale di San Pancrazio in Albano Laziale, sotto il pontificato di Papa Silvestro I. All'epoca, dunque, Nemi non risultava abitata o comunque non aveva unità di paese, poiché per massa nel Medioevo si intendeva un podere o un insieme più o meno unitariamente organizzato di poderi appartenenti a un signore feudale, ad un monastero, ad una chiesa o ad altra istituzione ecclesiastica o comunque a un magnate o, al limite, una tenuta con al più qualche casupola di contadini. Il paese cominciò a esistere solo quando fu edificato il castello, attorno all'800 d.C., quando la potente famiglia dei Conti di Tuscolo, molto probabilmente, si impadronì della comunità agricola residente nella Valle del Lago, come già controllava gran parte dell'agro romano e dei Colli Albani. Fu così che i nuovi padroni fortificarono la zona più elevata, posizione forte e selvaggia, che dominava tutto il lago ed era inattaccabile da tre lati, dando origine a quello che nei testi dell'epoca viene definito più volte Castrum Nemoris, cioè letteralmente la cittadella del Bosco. La popolazione di contadini e pescatori che viveva sparsa nella Valle del Lago trovò più sicuro avvicinarsi al fortilizio tuscolano e costruì la parte più antica di Nemi, quella che oggi è detta Pullarella. Poi, con la decadenza dei Conti di Tuscolo, nella signoria di Nemi e di altri castelli dei Colli Albani, subentrarono nel 1090 i Frangipane. Tuttavia, già nel 1153, Papa Anastasio IV concesse il castello ai monaci cistercensi della Abbazia delle Tre Fontane sulla Via Laurentina. Successivamente, anche Papa Lucio III, nel 1183, confermò ai cistercensi il possesso del castello di Nemi con le sue dipendenze e il lago. Probabilmente il bisogno di confermare la donazione fu determinato da una controversia giudiziaria sorta tra l'Abbazia delle Tre Fontane e i tre fratelli Pietro, Nicola e Angelo Gandolfi, che avanzavano pretese su una torre edificata dalla loro famiglia in territorio nemese presso l'attuale Genzano di Roma. La controversia si risolse nel 1218 con la rinuncia da parte dei Gandolfi a ogni pretesa sulla torre. I monaci cistercensi, in considerazione della pessima posizione geografica e climatica in cui si trovava l'Abbazia delle Tre Fontane, situata al centro di una vallata malarica, ottennero fin dal 1225 la possibilità di trasferirsi in estate nel loro più salubre feudo di Nemi e presso il convento di Santa Maria ad Nives di Palazzolo sul lago Albano, loro dipendenza dal 1237. Durante lo scisma d'Occidente, tra il 1378 e il 1417, l'antipapa Clemente VII, in cerca di appoggi militari per scalzare il suo rivale Papa Urbano VI, concesse a Giordano Orsini, feudatario di Marino, la signoria di Nemi e altri castelli e casali dell'agro romano. Tuttavia Giordano Orsini potrebbe prendere possesso di Nemi e degli altri possedimenti solo dopo la battaglia di Marino del 30 aprile 1379, in cui la vittoria arrise all'esercito pontificio, con la conseguente fuga dell'antipapa ad Avignone. All'inizio del 400, in considerazione dei servizi resigli come capitano di ventura nella crociata contro i Caetani e i Colonna, indetta nel 1399, Papa Bonifacio IX concesse Nemi e altri feudi a Tebaldo Annibaldi, feudi che gli furono tolti dopo la morte del Papa nel 1405, ma che i suoi eredi riuscirono a riacquistare in forza di una bolla pontificia dell'antipapa Giovanni XXIII del 1411. Ma poi nel 1412 Riccardo Annibaldi restituì diligentemente il feudo ai monaci cistercensi, salvo rioccuparlo attorno al 1420 per riperderlo di lì a poco nel 1423, quando i cistercensi pensarono bene di assicurare la tranquillità del loro feudo affidandolo per tre anni al nipote di Papa Martino V, Giordano Colonna. Tuttavia il feudo venne definitivamente acquistato dai Colonna nel 1428 per la somma di 15.000 fiorini. Eppure nel 1479 i Colonna vendettero a scopo di garanzia i feudi di Nemi e Gensano di Roma, al cardinale Guillaume d'Esteville, il quale li trasmise nel 1483 ai propri figli naturali Agostino e Girolamo, avuti con Girolama tosti. Con il famigerato breve apostolico Celestis Altitudine Potenzia, Papa Alessandro VI nel 1501 concesse ai propri nipoti Giovanni e Rodrigo Borgia, rispettivamente di 3 e 2 anni di età, una quarantina di feudi laziali a testa, tra cui Nemi. Amministratore dei feudi, naturalmente a causa della minore età dei soggetti interessati, fu nominato il cardinale arcivescovo di Cosenza, Francesco Borgia. Poi, con la morte di Alessandro VI nel 1503 e la caduta di Borgia, il feudo di Nemi tornò ai Colonna e sotto il dominio di Marco Antonio I Colonna la comunità nemese fece apografare il suo antico statuto risalente all'epoca dei Cistercensi. La nuova redazione, opera del notaio Bernardino Paganelli, fu presentata il 31 agosto 1514. Alla metà del Cinquecento iniziò un nuovo vortice turbinoso di passaggi di proprietà per il feudo. Nel 1550 Ascanio I Colonna vendette con diritto di retrovendita il feudo di per 4.000 scudi a Giuliano Cesarini, il quale nel 1559 rivendette il feudo a Marcantonio II Colonna, che già nel 1560 lo rivendette con lo stesso patto di retrovendita a Silverio dei Silveris Piccolomini per 7.300 scudi. Dopo che nel 1566 subentrò nella proprietà Francesco Cenci, nel dicembre 1571 Marcantonio Colonna, fresco ammiraglio vincitore nella celebre battaglia di Lepanto, rinunciò al diritto di retrovendita su Nemi, perciò nel 1572 il feudo venne venduto infine a Muzio Frangipane. A Muzio Frangipane successe poi il figlio Mario Frangipane, a cui si deve la realizzazione delle opere pubbliche e dei monumenti più importanti del paese, oppure per dirla con Gaetano Moroni, tutto quello che ha di moderno degno di considerazione. Fece quindi abbellire il castello, riedificato a suo tempo dai cistercensi e fortificato dai Colonna. Nel 1637 fece edificare il complesso per i minori osservanti con la nuova chiesa dedicata nel 1645 alla Vergine di Versacarro, per compensare il trasferimento dei cappuccini a Genzano. Nel 1639 la chiesa di Santa Maria del Pozzo, completata nel 1650. Alla sua morte nominò erede confidenziale il cardinale Antonio Barberini, che in seguito rispettò le volontà del defunto donando il feudo ai Frangipane di Croazia e così il marchesato di Nemi pervenne a Nicola Frangipane, duca di Terzatto. Ai Croati subentrarono i Frangipane friulani. E infine l'ultimo esponente di questa famiglia, Antigono Frangipane, nel 1781 vendette Nemi a Luigi Braschi Onesti, nipote di Papa Pio VI. Pio VI non tardò ad elevare il feudo del nipote del titolo di Ducato, riconosciuto nel dicembre 1786. I Braschi a Nemi si occuparono dell'abbellimento del Palazzo Ducale e del miglioramento dell'uso delle terre ducali, ordinando la piantagione di una quantità di ulivi in luogo di un infruttuoso bosco. Dopo la parentesi della Repubblica Romana, tra il 1798 e il 1799 e dell'occupazione napoleonica tra il 1807 e il 1814, il feudo tornò ai Braschi, fino a che Pio Braschi, nel 1835, decise di vendere Nemi a Giulio Cesare Rospigliosi, con diritto di retrovendita, per tornare in possesso poi alcuni anni dopo del bene. Nemi è stato a lungo uno dei paesi più appartati dei castelli romani. Infatti l'abbandono della via postale tra Roma e Napoli, che ricalcava grossomodo il tracciato dell'attuale strada statale 217 via dei Laghi, seguito alla riapertura della via Appia Nuova attorno al 1780, fece sentire le sue ripercussioni anche sul paese. Tuttavia la posizione pittoresca del centro abitato con il suo lago e i suoi boschi attirò numerosi visitatori stranieri del Grand Tour. Il fascismo fece capolino ai castelli romani il 27 aprile 1921, quando alcuni squadristi fecero un giro di propaganda a Frascati, Marino e Albano Laziale. Ma a Nemi i fascisti non ebbero vita facile, avversati dal Partito Popolare Italiano. Nel luglio 1923 bande squadriste fecero un'incursione contro i popolari nemesi, gridando fuori i popolari morte al Papa. E nel marzo 1924 si arrivò addirittura all'arresto del parroco e di alcuni esponenti cattolici da parte degli squadristi, immediatamente smentito dopo le proteste dell'osservatore romano. Tuttavia il fascismo locale non decollò fino all'inizio del 1925 a causa delle divisioni interne persistenti tra i fascisti nemesi, che del resto provenivano da diversi partiti. Nel 1924 dei 21 iscritti al fascio a Nemi, infatti, 12 erano ex socialisti, 4 ex comunisti, 3 ex popolari e 1 ex repubblicano, oltre a un ex anarchico. Tra il 1924 e il 1928 furono portati avanti, come ho già detto, gli scavi archeologici sulle sponde del lago per individuare il sito del Tempio di Diana e in quell'occasione, nel corso degli scavi, vennero scoperti anche altri edifici circostanti in località Giardino. Inoltre, tra il 1927 e il 1932 furono portate a termine le operazioni di recupero delle due celebri navi romane, affondate nel lago di Nemi, ospitate poi nel Museo delle Navi Romane appositamente costruito. I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale non colpirono Nemi, se non di striscio, ma l'esercito tedesco e ritirata ferì il paese con l'incendio al Museo delle Navi Romane di cui ho già parlato, avvenuto nella notte tra il 31 maggio e il primo giugno del 1944, che purtroppo distrusse completamente i resti delle due navi. Il Museo delle Navi Romane, situato sulla riva settentrionale del lago di Nemi, ossia subito sotto il paese di Nemi, costruito negli anni 1930 per ospitare gli scafi delle due imbarcazioni romane recuperate dal fondo del bacino lacustre, costituisce il primo esempio di struttura concepita appositamente in funzione del contenuto e condizionata da quest'ultimo nelle soluzioni architettoniche adottate.